Quando lavoro come coach nelle multinazionali o nelle aziende vedo che nei progetti di sviluppo e di innovazione c'è una mancanza di visione, di capacità di visione, di vedere oltre, di vedere oltre quello che è già stato fatto nell'immediato. Il coaching qui entra con una domanda fondamentale che aiuta le persone o i team a guardare oltre, a guardare oltre i propri limiti, a guardare oltre le routine che hanno ogni giorno e oltre ad esempio prodotti e servizi che hanno sviluppato negli anni e quindi a guardare a nuove frontiere. La domanda è questa, cosa voglio ottenere idealmente? Qual è il mio ideale? Cosa voglio raggiungere in particolare? Il voglio è una parola che spesso noi non utilizziamo, sembra quasi che il voglio sia relegato a quando eravamo bambini. In realtà il voglio è una domanda fondamentale, una parola fondamentale perché ci fa vedere la direzione che vogliamo prendere e quindi aumenta tantissimo la qualità delle decisioni che dobbiamo prendere e ci aiuta a scegliere in modo molto più efficace qual è la strada da prendere, anche se quella strada magari è più difficile, ma sicuramente molto più di qualità. Per cui quando vogliamo raggiungere un nuovo obiettivo, quando vogliamo innovare ad esempio dei prodotti, quando vogliamo raggiungere qualcosa di più ambizioso, chiediamoci cosa voglio raggiungere. Ogni giorno prendiamo centinaia di decisioni e le decisioni determinano i risultati che noi abbiamo. Alcune decisioni ormai sono diventate abitudinarie, quasi automatiche, ad esempio quale tragitto fare per andare al lavoro oppure che tipo di colazione fare. Sono le piccole decisioni che ci servono per navigare nella realtà e per superare i piccoli ostacoli di ogni giorno. A volte ci illudiamo però che piccole decisioni possono portarci a grandi obiettivi. Se è un'attività ad esempio avrai dovuto anche tu investire in pubblicità online, è una scelta quasi obbligata per tutti. È una decisione che hai dovuto prendere come imprenditore. Questa però è una piccola decisione. Nessuna azienda infatti è diventata una leggenda del business perché ha fatto marketing online. È una decisione piccola, sicuramente importante, che però non cambia le cose. Se infatti la tua azienda fosse in difficoltà, fare un po' più di marketing online non cambierà certo le sorti. Certo potrebbe migliorare un pochino perché porta più vendite. Se però non vi sono processi all'interno che sono adeguati oppure se i prodotti sono obsoleti, prima o poi anche quel marketing diventerà più un costo che una risorsa. Non possiamo prendere piccole decisioni per grandi obiettivi. Grandi obiettivi o grandi cambiamenti hanno bisogno di grandi decisioni. Se vogliamo diventare leader riconosciuti nella nostra nicchia, se vogliamo costruire un personal brand di sicuro successo che ci rende eccezionali, dobbiamo prendere delle grandi decisioni. Potremmo dover abbandonare la maggior parte dei nostri prodotti, ad esempio, come ha fatto Apple. Oppure potremmo dover cambiare in modo radicale il modo in cui comunichiamo. Potremmo dover addirittura cambiare mercato, oppure il nostro modello di business, o rivoluzionare il modo in cui facciamo impresa. Sono le grandi decisioni che portano a grandi risultati. Quando ti rendi conto che le tue piccole decisioni, le piccole strategie, anche sommate, non portano a un grande cambiamento, è il momento di prendere quella grande decisione, di fare quel grande salto, di prendere quella decisione di svolta. Certo, sarà un pochino più rischiosa, però è così che si fa la differenza. Allora, quale grande decisione prenderai? La mia società è specializzata nella facilitazione del business development nelle aziende. E vediamo che uno dei problemi principali nei nostri interventi di business development è l'attuazione dei piani definiti con l'azienda. Lavoriamo con il loro team per definire nuove innovazioni, innovazioni di processo, innovazioni di prodotto o di servizio, oppure cambiamenti nelle organizzazioni. In questo tipo di progetti vediamo che non c'è scarsità di idee, anzi, l'imprenditore o il manager hanno già tantissime idee e già tantissimi progetti nella pipeline. E quindi bisogna solo scegliere e costruire un progetto che sia interessante e redditizio per l'azienda. Il problema è proprio l'attuazione, o l'execution, come dicono gli americani. Il portare avanti dei progetti fino in fondo, quando bisogna anche curare l'operatività giornaliera. Spesso invece diventiamo schiavi della nostra agenda, schiavi dell'operatività giornaliera, delle riunioni, delle urgenze. Per diventare maestri nell'execution, nel portare a termine un progetto, è importante seguire queste tre fasi. Prima di tutto, definire un piano d'azione ben specifico. Una volta che abbiamo deciso cosa dobbiamo fare, dobbiamo anche decidere come farlo in dettaglio, con chi farlo o chi lo farà, dove farlo e quando farlo. In questo modo ce lo scriviamo nell'agenda. Dobbiamo prenderci un appuntamento per quel progetto. Se non è scritto in agenda, non esiste. Non dirti lo farò quando avrò tempo, perché non ne avrai mai. Prima di procedere, poi, bisogna chiedersi quali sono gli ostacoli. Cercare di eliminare i più ostacoli possibili. Quando pianifichiamo, non siamo nella realtà, non stiamo agendo. E quindi minimizziamo i potenziali ostacoli. Vai ad aumentare la motivazione al massimo. Come può essere più motivante il progetto? Che incentivi devi dare a te stesso e agli altri? Come devi strutturarlo? In che modo può essere così motivante che non potrai far altro che portarlo a termine? Con queste tre fasi potrai diventare un maestro dell'execution e quindi nel business development.